Ma eccoci giunti all'ultimo tratto di questa tappa Parigi-Istanbul, in testa al momento il numero 15 seguito dal numero 18 di poco staccato. I due mantengono l'andatura e non danno segni di cedimento, ma ecco che svoltano ora la curva dell'Angelo, dunque siamo a circa 300 metri dall'arrivo. E così il primo della fila sente il bisogno di abbeverarsi, mentre il secondo segue placido. Ma attenzione il numero 15 prova all'allungo e questa è da rivedere, mentre il numero 18 quasi non rompe, ma ora prova l'affondo a sua volta. Attenzione ora recupera velocemente terreno, sembra inarrestabile, i due sono appaiati, siamo a pochi metri dalla fine ed ecco che la tensione finale ed il numero 18 va a vincere letteralmente per uno sputo.